È una cosa di cui verificheremo poi i risultati, è un tentativo di fare sinergia tenendo conto che le risorse in questo momento non sono infinite ma cercando di valorizzare tutto quello che è stato fatto fino adesso e anche tenendo conto del ruolo che è iniziato da poco tempo e poi che era stato attribuito al tutore dei minori di garante dei diritti dei detenuti. Ripeto, è un compito, è una sfida che anche un po' preoccupa ma io sono commossa e emozionata, ripeto, e ce la metterò tutta.